buongiorno gente allora scusate se sentite rumori è del che sta mangiando topino vuoi salutare però come vedrete questo video tratta questo argomento ovvero food spring se mi seguite e soprattutto da questo video ve lo metto qua in sovraimpressione io ho ricominciato a fare attività fisica soprattutto sto cercando di mantenere un'alimentazione corretta sana questo non vuol dire gente che comunque mi evito o soprattutto mi levo dei pasti principali oppure vado a sostituire la mia alimentazione con altre cose perché io se devo essere sincera non ci ho mai creduto a queste cose cioè vale a dire sostituire un pasto con un bibitone oppure sostituire un pasto con una barretta secondo me è vero che quando iniziate questo percorso comunque dovete avere la forza di evitare di fare sgarri mangiare più sano e fare molta più attività però sono anche del parere che ci vuole tempo ci vuole la calma per mia fortuna ho un corpo diciamo piccolo poi se posso cerco di fare cinque pasti piccoli ma comunque uno pressa all'altro in modo che così magari ho più fame in quella giornata comunque mangio evito di levarmi delle cose e se soprattutto ho fame magari mi mangio una barretta prima dei pasti principali che sono colazione pranzo pranzo cena io sono un amante delle barrette quindi non fate caso il fatto che ho citato barrette però questo non vuol dire che le sostituisco un pasto gente cioè mi raccomando i tre pasti principali alla giornata fateli proprio interamente e in più mi piace mangiare gente io sono una buona forchetta cioè sono un tipo che se va fuori a mangiare è difficile che mi tengo io magari sono capace di fare da antipasto a dolce veramente però mi rendo conto che adesso sono in quello stato che devo comunque mantenermi come sono arrivata a food spring se io ho sempre quella colazione sempre quella merenda sempre quel pasto io dopo un po' mi stufo cioè proprio mi annoio quindi devo alternare parecchio all'inizio volevo acquistare natural mocio però io gente il sito l'ho guardato il sito di natural mocio è questo qui devo dire strutturato ok perfetto molto bene avete qui lo scampartimento e ci andate e cliccate quello che vi interessa ho fatto le diverse nuove uscite i nuovi tech che sono usciti e quelle diverse categorie che tratta qui i preferiti e qui instagram con alcuni commenti di alcune persone che dicono cosa pensano di tutto qua andiamo allo shop body shape andiamo a questo qui allora a me mi interessava fare un ordine riguardante queste specie di fatemi dire integratori polveri che non perché voglio sostituire dei pasti ma per utilizzarlo per possibili merende o colazione se voglio prendere il fit chocolate c'è in due versioni o con lo shaker che a me poco mi interessa e ve lo fanno pagare adesso 53 euro e 99 perché in promozione perché sennò costerebbe 59 euro e 98 e se lo volete acquistare singolarmente costa 39 euro e 99 39 euro e 99 che io dico per un centesimo perché non avere le spedizioni gratuite e il contenuto è di 480 grammi andiamo su food spring questo è food spring devo dire che anche questo è un sito studiato veramente bene 4 cose importanti che non si perdono in chiacchiere e basta andiamo allo shop andiamo a prendere quello che volevo prendere io ecco il qua allora vi faccio notare che avete lo shaker gratuito il baratto è lo stesso avete differenti gusti avete 750 grammi e costa 29 euro e 99 poi torniamo sempre al fatto che gente food spring ha lo stesso ragionamento di natural motion quindi già questo mi porta più a dire ma sai che c'è vado su food spring poi altra cosa che mi piace questo è il natural motion qui c'è la scheda del prodotto qui c'è la descrizione in più gli ingredienti vi dice i valori tutti i valori possibili costi spedizioni e consegna ok food spring prodotto scheda del prodotto costo diciamo i punti forza di questo prodotto su che cosa lavorano loro vi spiegano poi in più oppure altre cose sostanze contenute consigli per il consumo quindi come potete utilizzarlo e non e valutazioni gente cioè quindi per quanto uno può dire questi possono essere commenti di gente che magari è stata pagata magari sono quelli che lo sponsorizzano e via dicendo quello che a me mi piace è che non vi buttano là subito se lo vuoi queste sono le condizioni per me questa cosa già non mi piace cioè a me mi serve capire chi l'ha valutato come si trova come non si trova che cosa dice perché a me non mi serve andare all'home page e perché ci stanno tre gallette qua che dicono ah sì perfetto allora sono convinta cioè io devo capire cosa vado a ingerire quindi già questo di food spring mi piace di più altra cosa natural mojo tende a vendere capsule integratori fatemi dire diversi tè o tisane fate voi accessori e diversi pacchetti e bicchierini che sinceramente andata da casa nuova le trovate pure a molto meno food spring food spring vi vende diversi polveri che possono essere a discorso pre workout integratori oppure vi fa anche lui diversi pacchetti e in più vi dà la possibilità anche di acquistare l'olio di cocco a pacchetto o singolo i muesli diversi snack in più anche un impasto proteico i loro prodotti però in versione piccola burro di arachidi cornflakes altra frutta da poter provare food spring veramente ha un'ottima variante a poco costo altra cosa parte dei muesli io volevo prendere questo qui al mirtillo e mandorle di terra o fatemi dire che se non volete il barattolo e lo volete provare lo potete acquistare in vasetto e il vasetto vi costa 2 euro e 49 così mi dai la possibilità di provare più cose senza che vado a spendere tanto e quindi questo è quello che penso di tutti e due siti e si ve lo come si dice illustrato non è che quello che dico io è vangelo però vi volevo far capire perché preferisco andare su food spring che in natural mocio ok gente per quanto vogliamo costruirci un determinato tipo di corpo quando si tratta sul discorso alimentazione bisogna stare veramente attente perché comunque gente c'è il nostro carburante è il cibo partiamo da questo fatto anche se anche io acquisterò queste polveri io li vado ad utilizzare per integrare un pasto quindi magari per insaporire di più uno yogurt oppure come vi ho detto per fare i pancake perché è una cosa che adoro oppure magari anche per crearmi dei dolci la sera se vuoi una volta un dolce ordine fatto da 80 ho deciso di pagare 56 euro ho detto no facciamo un ordine intelligente mirato qui sono sul mio profilo questa è tutta la lista di quello che ho ordinato poi due cose sono gratuite non lo sapevo comunque questo è il totale buongiorno gente come vedrete questa è l'ultima parte del video ovvero finalmente è arrivato questo pacco noi siamo appena tornati da una scampagnata un attimo così lesta veloce al paesello è proprio stata una toccata e fuori siamo partiti ieri pomeriggio siamo tornati adesso proprio ieri pomeriggio appena sono partita mi è arrivato il messaggio di mia madre che mi ha detto ti è arrivato il pacco devo dire la verità mi pensavo che arrivasse un po prima cioè in mattinata invece è arrivato tipo verso le tre però è arrivato ovviamente ricevuta e questo è il pacco allora andiamo ad aprirlo io che tento di aprirlo quando si può tranquillamente aprire così ok quindi nemmeno coltelli forbici o cose dovete prendere si apre senza problemi mi piace questa cosa allora allora no vabbè raga non ci credo me se sono aperti i cereali aspettate facciamo ordine questa cosa non mi piace allora che cosa ho preso partiamo da questo poi dirò le mie come sapete io sono una patita di barrette e volevo assolutamente provare le barrette loro quindi ho preso due barrette della linea quella un po' fruttata quindi mirtillo e frutto della passione e quest'altro che invece della linea protein bar al brownlee quindi ho detto voglio provare queste questa è bella grandina sono 60 grammi contate e questi 40 grammi poi con il fatto che io non ho mai mai provato il porridge e ne stavamo parlando proprio ieri sera con manuela vedere quel determinato tipo di piatto e prepararlo cioè è una cosa che non farò mai invece se vado ad acquistare in questo caso dei porridge da che oramai ci ho speso e oramai li devo mangiare sono obbligata quindi teoricamente ho più voglia di provarle quindi mi sono presa due confezioni di porridge che volevo provare questo al cioccolato e assolutamente questo mele e cannella perché sono un'appassionata di mele e cannella lo so sono seghe mentali mie poi ho preso lui ho preso questo qui perché ho detto voglio utilizzarlo nei yogurt per fare magari dei dolci e cose varie ed è questo della linea shape shake che mi rendo conto che è quello che teoricamente viene utilizzato per la sostituzione dei pasti tant'è che mi hanno allegato gratuitamente lo shaker alle brutte posso farci una merenda e questi sono 750 grammi quindi voglio iniziare a vedere se voi l'avete provato fatemi sapere se si possono magari fare delle ricette o cose varie perché comunque io sul sito ho visto che ci sono delle ricette e preparavano dei pancake con questi e li voglio provare assolutamente proprio perché ho preso questo mi hanno mandato e questo mi ha veramente stupito quella la vaniglia quindi voglio provare anche lui per vedere se ne vale la pena se è buono poi sempre in omaggio mi hanno mandato il protein muesli questo con i cereali se non sbaglio uvetta altri pezzi di cose comunque questo qui questo me l'hanno mandato perché io teoricamente avrei preso lui questo con i mirtilli e tutto l'unica cosa è che durante il viaggio è esplosa è come se avesse fatto talmente tanta pressione e mi si è totalmente aperto il pacco per fortuna non ho perso tanto prodotto quindi già quello diciamo che all'inizio ero veramente rimasta malissimo adesso diciamo che mi sto alleggerendo però contate che c'è non è tantissimo però vedete diciamo è finita bene però speravo finisse meglio e niente gente allora questo è tutto quello che ho ordinato questo è un po tutto quello che ti ho potuto dire a riguardo di quello che penso io e perché cosa mi ha portato a fare questo ordine proprio presso di loro e non presso altri brand o un altro brand li testerò li proverò vediamo insieme ovviamente ripeto non li utilizzerò come pensate cioè o come sostituzione o per levare degli alimenti per inserire questi notti io spero che questo video vi sia piaciuto spero che l'abbiate trovato un po interessante perché mi è piaciuto fare questo ordine arrivo pacco e all con piccole impressioni quello che penso se questa azienda vedrà mai questo video cioè io ve lo dico magari state attenti mettete qualcosa che non faccia esplodere questo barattolo perché a me è capitato purtroppo bene gente io ho detto tutto un bacione e al prossimo video ciao